Comandante Salvatore Borriello, responsabile dello sportello marittimi della CGL a Torre del Greco, è un momento di grande agitazione per i lavoratori del mare. Che cosa sta succedendo? Diciamo in poche parole, quello che sta nascendo in questi ultimi temi è una volontà precisa del governo di decurtare l'indenità di malattia dei marittimi. Dal 75% è stato portato al 60% della retribuzione dell'ultimo mese che poi diventerebbe retribuzione globale giornaliera. Anche questa definizione potrà nascondere altri punti negativi nei confronti dei marittimi. Noi come Camera dell'Ovole CGL a Torre del Greco, come sempre vicino e anche a fianco dei marittimi, abbiamo ritenuto opportuno, grazie a voi di Vustiti, di fare queste interviste stamattina e seguiamo sempre da vicino tutte le vicissitudini dei marittimi. Rispetto a questa problematica voi che cosa intendete fare? Rispetto a queste problematiche noi ovviamente non vogliamo fare del falso populismo perché già prima che la legge fosse varata ci siamo dati da fare, ma questo governo ha alzato un muro invalicabile sulle varie proposte di accantonare questo articolo. Noi siamo intervenuti già prima con i parlamentari, con i vari parlamentari come CGL, Ciservuilla a livello nazionale, anche il comune di Torre del Greco ha praticamente fatto una lettera che è arrivata ovviamente nelle sedi istituzionali nazionali. Però io ci terrei a dire alcune cose. L'indennità malattia dei marittimi per molti anni è stata è stata praticamente fatta passare un po' come un ammortizzatore sociale e in effetti non è ammortizzatore sociale. Questa è anche un po' colpa ben voluta anche dagli armatori perché gli armatori quando non avevano da imbarcare i maritti mi dicevano vabbè mettiti sotto cassa. È anche un po' un'autocritica che dobbiamo fare anche noi come sindacato su questa questione. Perché? Perché l'indennità di salute è una cosa, l'indennità di retribuzione è sicuramente tutta altra cosa. Allora lo spirito dell'Inps qual è in queste circostanze del governo? È quello di favorire l'indennità di disoccupazione all'indennità di malattia. Allora qual è il vero problema? Il vero problema non è l'indennità di malattia ma il vero problema sta nel stabilizzare il rapporto di lavoro dei marittimi. Perché noi vediamo che ormai gli armatori, l'unico modo per stabilizzare è la continuità di rapporto di lavoro. Che vediamo gli armatori l'avversano sempre di più, la vorrebbero quasi far scomparire. Per i marittimi è importante stabilizzare il lavoro. Cioè io marittimo che mi sento stabilizzato, che so, faccio i miei due mesi, tre mesi e poi ne faccio tanti a casa e poi verrò richiamato e quando sto a terra sono vagato. Io non avrò più bisogno di mettermi in malattia come un ammortizzatore sociale ma bensì metterò in malattia veramente quando sarò malato. Quindi risolvere il problema a monte? Risolvere il problema a monte, diminuire i ritorni generali, stabilizzare i lavoratori e così secondo me si potrà advenire ad una vita dignitosa del lavoro marittimo. A criticare va bene però a costruire insieme al sindacato veramente una realtà dignitosa del marittimo. I delegati sulle navi non esistono più. Quindi di nuovo creare una rete di delegati che è l'anello di congiunzione tra gli equipaggi e il sindacato. Questo bisogna fare secondo me. Continuerà la mobilitazione, il 25 in programma un'iniziativa e poi il 30 ci sarà proprio un incontro ufficiale con l'Inps. Sì, ci sarà un incontro ufficiale con l'Inps, con CGL, CIS, Rewill e poi una cosa importantissima, ci sarà una manifestazione con presidio sotto la prefettura il 25 la settimana prossima affinché il prefetto prende nota della protesta dei marittimi e si fa garante verso il governo di queste aspettative dei marittimi. Io rivolgo un appello al di là delle sigle sindacali, marittimi interveniamo tutti, interveniamo tutti a questa manifestazione.